Dice una cazzata per farle sorridere, allentare la tensione, hanno fiducia. Snoccioli i nomi di chi gioca, di chi questa domenica difenderà l'idea. Disegni frecce e movimenti sulla lavagna. Adesso tocca a noi, ci stringiamo in un abbraccio, ci chiarichiamo l'una con l'altra, saliamo le scale ed ecco il prato vento. Siamo pronti. L'arbitro fischia e in testa abbiamo solo quel grido. Finale la vittoria sempre. In una maniera per fargli ricordare, comunque lui sarà sempre con noi, il prossimo anno sarà scritto sulla maglia che noi porteremo in campo e lo porteremo dove, cercheremo di portarlo dove lui merita di stare. Grazie. 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 Grazie.